L'Aquila è già al lavoro per dimenticare la brutta sconfitta con il Sant'Arcangelo e preparare la delicata sfida di sabato al Pisa di Gattuso, vice capolista del Girone B di Lega Pro. Gli uomini di Perrone hanno dimostrato di aver accusato il temuto calo di tensione a seguito della riduzione della penalizzazione in classifica, nonostante il direttore sportivo rosso-blu Alessandro Battisti la pensi diversamente. Il calo di tensione non c'è stato secondo me e soprattutto diciamo che la tensione noi ce l'abbiamo sempre avuta, non erano parole vuote quelle che dicevamo da sin da st'estate che quest'anno sarebbe stato un anno difficile, con grandi difficoltà, ma probabilmente qualcuno sarebbe all'uso, qualcuno che magari o capisce poco di calcio fa finta di non capire di calcio. Io penso che le difficoltà ci sono sempre state e noi siamo stati i primi a saperlo, i primi ad esserne consapevoli, ma i primi ad essere consapevoli anche che avremmo lavorato tanto per risolverlo. Stiamo cercando di lavorare, è stata una sconfitta pesante, una sconfitta secondo me immeritata, però come vedi oggi siamo già al lavoro per cercare di preparare al meglio una partita difficilissima. Fatto sta che ora gli Aquilani saranno attesi da tre sfide cruciali per determinare il cammino salvezza, nell'ordine Pisa, Teramo e Maceratese, di cui due di queste in casa. Per sabato contro i Toscani di Gattuso il tecnico Perrone potrà contare sul rientro del centrale difensivo Giordano Maccarrone, che ha scontato il turno di squalifica. Potrebbero infine esserci novità sul modulo, il 3-4-3 delle ultime uscite non ha convinto e l'allenatore rosso-blu starebbe pensando al ritorno al 3-5-2 per non concedere in ogni partita agli avversari un uomo in più a centrocampo.